Ed eccoci qui, sembrava difficile all'inizio ma eccoci qui a commentare un girone di Champions League finalmente finito a questo punto vedendo come si era messa sin da subito praticamente la situazione con addirittura 5 sconfitte su 6 che obiettivamente non è facile però noi siamo riusciti nell'impresa ma sono sincero oggi io avevo nella testa soprattutto due cose la prima era quella di non sfigurare particolarmente anche perché record di incassi della storia dell'Allianz Stadium 5 milioni di euro incassati ci credo considerando che le curve costavano 72 euro però quella gente che ha deciso in un qualche modo nonostante tutto di fare un sacrificio a livello economico per venirti a vedere si meritava probabilmente anche una vittoria però si meritava quantomeno di non sfigurare cosa che effettivamente è stata fatta e dico la verità io a questo punto speravo soprattutto che non si facesse male nessuno cosa altrettanto importante nel momento in cui ti presenti alla partita con 12 indisponibili uno per carità di dio per squalifica però dici già sono 11 già sono 10 se ne va pure un altro o più di uno ecco quindi quantomeno all'interno dei 90 minuti sembra tutti salvi aspettiamo da qui a domenica con la speranza di recuperarne qualcun altro e poi sono rimasto anche piacevolmente sorpreso soprattutto da un rientro da un rientro che sembrava improbabile stando no anche a quelle che erano le parole di allegri che diceva chiesa forse convocabile col verona ha fatto una ventina di minuti oggi ed è entrato in un modo meraviglioso l'idea di rivedere federico chiese di un federico chiesa che correva dietro a tutti prendeva il pallone puntava la porta puntava l'uomo l'ho visto proprio bene e questa è la cosa che salvo più di tutte della partita di oggi inevitabilmente perché è uno di quei tre i famosi chiesa pogba di maria sui quali si dovrebbe fondare la juventus 2022 2023 è nel momento in cui effettivamente vedi un chiesa rientrare in questo modo giocando 20 minuti comunque anche con un'intensità abbastanza importante prendendosi tra le altre cose pure una gomitata in bocca da renato sanchez puntualmente non vista dall'arbitro ma è un altro paio di maniche sono rimasto colpito in modo molto positivo quindi a questo punto può essere a tutti gli effetti un'arma partiti in corso contro l'inter ovvio anche in questo caso non per uno spezzone particolarmente esagerato però magari anche no domenica per 20 25 minuti potrebbe dir la sua speriamo speriamo non lo so detto questo invece la partita di per sé vi dirò pensavo molto peggio pensavo molto peggio sono sincero pensavo molto peggio e probabilmente la juve per assurdo si meritava quanto meno il pareggio per quanto visto per quanto creato il psg t'ha fatto due gol praticamente su due azioni si possono quasi definire individuali la prima con bappé che è in bappé gatti cerchi in tutti i modi di buttarlo giù non ce la fa super anche locatelli tiro a giro sul secondo palo e mbappé è un fenomeno lo scopriamo oggi direi di no e tanti saluti dove tu puoi comunque reagisci bene hai una bella reazione una reazione importante continua a costruire continua a creare continui purtroppo a mangiarti anche delle occasioni che in partite del genere contro avversari del genere nel momento in cui te le mangi purtroppo rischi tanto cioè rischi tanto rischi che poi magari non capitalizzi tu capitalizzano loro e lo prendi nel culo cosa che col senno di poi è puntualmente anche arrivata dove però trovi il gol con bonucci una bella azione che mi ha ricordato l'asse pirlo l'icksteiner dei tempi d'oro dove il pallone è arrivato a quadrado che di testa l'ha buttato in mezzo ed è arrivato bonucci e comunque hai fatto il tuo oggi posso dire la verità oggi anche della prestazione sono soddisfatto nel senso mi è piaciuta come partita se poi vogliamo anche tra le altre cose sempre usare l'aggravante degli 11 indisponibili 12 anzi oggi non ne avevi 12 molti dei quali proprio titolari tu comunque oggi il tuo l'hai fatto e non puoi neanche dire che hai giocato contro un psg che è venuto in ciabatte o quantomeno se l'ha fatto polli loro perché l'hanno preso nel culo perché dall'altra parte il benfica ne ha fatti sei al maccabi e si è qualificato come primo del girone quindi se il psg è venuto in vacanza se lo sono presi nel culo e godo però loro in champions league ci sono a differenza nostra che però in compenso siamo ufficialmente in europa league e adesso l'unica possibilità che abbiamo per prendere i milioni mancanti dall'accesso agli ottavi di finale è quello di vincerla e in bocca al lupo vedendo anche quelle che ci sono le squadre che ci sono già quelle che sono seconde o terze pardon nel girone di champions sarà un europa league abbastanza difficile molto probabilmente ma chi è causa del suo mal pianga se stesso però ci siamo e io sono dell'idea di onorarla anche perché metti che a buco di culo è la vai a vincere tu sei in champions league testa di serie questa cosa non ce la dobbiamo mai dimenticare che è dannatamente importante anche proprio in ottica campionato vedendo quella che è la situazione attuale del nostro campionato l'europa league potrebbe essere un trampolino alla prossima champions sarà facile assolutamente no la vinceremo secondo me no però cazzo ancora devi giocare la prima partita quindi per carità mai dire mai assolutamente e tra l'altro vedremo lunedì contro chi saremo sorteggiati poi oggi mi è piaciuto da matti locatelli oggi locatelli mi è piaciuto veramente da matti da matti anche fagioli e miretti miretti però sotto porta deve essere un pochino più incisivo perché spesso e volentieri ha degli occasioni potenzialmente ghiotte ma non le concretizza mai e questo rischia di essere un problema mi fa sempre piacere vedere come milic nel momento in cui ho deciso di elogiarlo entrato nei desaparecidos benissimo proprio non so come mai ma me l'aspettavo sono sincero però speriamo domenica milic è più importante domenica prossima quello sì e vi dirò anche alexandro oggi continua a promuoverlo e gatti idem perché comunque come avversario aveva Mbappé nel primo gol ci ha messo del suo ma capisco c'è quattro mesi ferie al frosinone oggi marcava Mbappé insomma però poi comunque il suo l'ha fatto bene o male il suo l'ha fatto forse costi c'era quello un pochino più indietro rispetto a tutti gli altri oggi non mi è particolarmente piaciuto però purtroppo non avevi la possibilità di mettere dentro il in junior e quindi hai dovuto in un qualche modo fare di necessità virtù detto questo nulla accantoniamo definitivamente il discorso champions anche perché cinque sconfitte su sei penso siano abbastanza chiare e simboliche su quello che è stato il percorso della juventus in champions e pensiamo a domenica e pensiamo a domenica con un chicco chiesi in più io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza juve